L'UCID Italia, Unione Italiana Imprenditori e Dirigenti, ha una sua sezione anche a Isernia. La sua funzione è stata illustrata nei locali della Diocesi alla presenza del Vescovo Cibotti dal presidente del Comitato Scientifico UCID, Riccardo Petrizi. La funzione dell'UCID è innanzitutto una funzione formativa, perché è un'associazione che si muove su ispirazione della dottrina sociale della Chiesa e questa dottrina che è la fusione tra il messaggio evangelico e la quotidianità, i problemi di tutti i giorni, è in grado di darci orientamenti, specialmente nei momenti di crisi come quello che stiamo attraversando. L'UCID è un'associazione nazionale formata da imprenditori, dirigenti, professionisti che, ispirati appunto alla dottrina sociale della Chiesa, vogliono incidere nella società e cambiare, se possibile, eliminare le situazioni di ingiustizia che continuano ad esserci sul nostro territorio e localmente e a livello nazionale, è quel che è più preoccupante a livello mondiale. Ma quale potrà essere il contributo dell'UCID al territorio e all'economia di Isernia e del Molise? Abbiamo messo una bandierina oggi molto importante, perché con il presidente di Isernia già abbiamo un grosso programma di espansioni su Campobasso e poi vogliamo creare addirittura il gruppo regionale perché l'UCID è una confederazione di gruppi regionali e mancava il gruppo del Molise. Con la nascita della sezione a Isernia e successivamente quella che sarà varata a Campobasso riusciremo a fare il gruppo del Molise, il che è molto importante perché in una realtà come questa che ha visto grossi e pericolosi fenomeni di deindustrializzazione è necessario che si abbia una classe dirigente in grado di dare orientamenti e soluzioni ai problemi che attanagliano la popolazione.